Anche l'amministrazione Saitta continui le buone pratiche già iniziate con la precedente amministrazione, quella di una particolare attenzione anche ai piccoli comuni, specialmente adesso che le prospettive future non sono delle più rose anche in vista della finanziaria preannunciata. Specialmente aspettiamo la provincia che ci aiuti nell'infrastrutturazione del territorio e nei progetti di sviluppo del territorio, al di là degli aspetti istituzionali.